2, 1, azi, vai! Se il principe non aveva detto niente duelli pena la morte? Vabbè, se il principe non vede, fai colo il principe, sono un po' ribelle. Fai qualcosa con questo oggetto. Questa è una barrotta, la metto? You shall not pass! E' uscita dalla linguatura? Perché tornare a vedere Romeo e Giulietta? Perché lui muore. Io se fossi al mare, in questo periodo, rimarrei al mare. Quindi vi capisco in qualche modo e non vi giudico. Però, se siete in città e magari non sapete che film vedere, siete con un amico e non con la donna, venite. E poi perché quest'anno lo faccio più simpatico? Sono rotto il cazzo. Fanno sempre fare quello incazzato. Vabbè. 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 Grazie a tutti